buongiorno ragazzi allora oggi ho realizzato un mix davvero storico degli anni 80 ma che può essere impiegato benissimo ancora tuttora io naturalmente l'ho personalizzato in base alle mie esigenze è composto da soli tre ingredienti un pastoncino che io ho scelto tra quelli tecnici presenti oggi sul mercato un derivato del latte e il famosissimo robin red ho realizzato le boilers di forma irregolare a mano quindi non uso la tavola li ho cotte al vapore appena uscite dalla vaporiera li ho spolverate con del bellanchan fermentato il gamberetto fermentato sappiamo benissimo come gli alimenti e i prodotti fermentati rappresentino un grande beneficio per la carpa poiché non solo la fermentazione va ad aumentare il profilo nutrizionale degli dei mix e quindi nel nostro caso delle nostre esche ma ma contribuisce ad aiutare maggiormente la carpa nella digestione appunto delle nostre esche andate a vedere appunto qualche giorno fa ho pubblicato un articolo la fermentazione tramite appunto questo procedimento che può essere effettuato da chiunque tra le mura domestiche andrete a potenziare le vostre esche sia ready made che self made ma tornando al mix dicevo che ho impiegato solo tre ingredienti poi naturalmente ho inserito anche degli altri ingredienti extra mix solo due uova e la parte e poi ho scelto una parte aromatica tra i cibi liquidi vi dico che ho utilizzato tre cibi liquidi davvero storici che sono davvero come dire attrattivi nel vero senso della parola non vi dico altro per chi volesse andare a leggere l'articolo che seguirà e che sarà presente su car magazine punto it riguardo appunto che si intitolerà mix a tre potrà farlo iscrivendosi al patreon vi ripeto anche come c'è scritto anche sul sito che l'abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento quindi vi invito per chi per chi è curioso di natura come me e vuole sapere non tanto le percentuali quanti grammi di un ingrediente piuttosto che di un altro ma vuole capire il perché della scelta delle materie prime quali sono i benefici che che apportano alla carpa gli ingredienti che noi andiamo a utilizzare quindi del perché delle cose lo invito ad andare a leggere l'articolo nei prossimi giorni in versione integrale grazie e buona giornata ciao